Musica Bisogna avere sempre rispetto per gli anziani perché sono persone molto deboli e sensibili. Musica E' bello rendersi disponibili e condividere il proprio sapere con chi ne ha più bisogno. Musica E' doveroso compiere piccoli gesti d'amore quotidiani per dare un contributo alla propria famiglia. Musica Rispettare l'ambiente oggi ci permetterà di avere un mondo più pulito domani. Musica Bisogna rallegrade con gesti d'affetto un amico in momenti di difficoltà. Musica Condividere con l'altro la merenda aiuta a regalare un sorriso e a riscoprire il sentimento della generosità. Musica E' importante avere cura e rispetto per gli animali perché donano all'uomo amore e fedeltà incondizionati. Musica Come l'arcobaleno con i suoi colori rischiare il cielo dopo un'acquazzone. Allo stesso modo questi semplici gesti dovrebbero dipingere la statica quotidianità di ognuno di noi. Musica 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 Come l'arcobaleno con i suoi colori rischiare il cielo dopo un'acquazzone. Musica Oh